Avvocato Schembri, quali nuove prove può portare la difesa per ribaltare condanna a due ergastoli? Noi abbiamo allegato alla nostra richiesta di revisione già quello che noi riteniamo siano delle nuove prove. Mi riferisco a sette consulenze di 15 esperti, tutti professori ordinari ed aggregati delle varie università italiane che hanno esaminato ore e ore migliaia di intercettazioni ambientali e telefoniche che non entrarono al processo per tutta una serie di ragioni che oggi sono venute alla luce e che vanno a impattare decisamente su quelle che sono le prove che sorreggono la condanna. Poi abbiamo anche delle nuove prove di carattere dichiarativo. Mi riferisco anche alla testimonianza, alle sommarie informazioni che ha reso recentemente un ex carabiniere che all'epoca era di servizio presso la compagnia del comando provinciale di Como che ha reso delle dichiarazioni che già sono state allegate alla richiesta di revisione e quindi vagliate dalla Corte d'Appello di Brescia così come sono state vagliate già dalla Corte d'Appello di Brescia delle dichiarazioni rese alla difesa dal tale Abdi Cais che era residente presso la casa della strage che era all'epoca attenzionata, quindi quando avvenne la strage era attenzionata da una inchiesta della Guardia di Finanza inchiesta afferente il traffico di sostanze stupefacenti Scusi, aspetti avvocato, a mia presenza l'ex carabiniere che cosa avrebbe detto? L'ex carabiniere ha detto ha reso delle dichiarazioni sulle indagini in particolare ha reso delle dichiarazioni proprio sulle confessioni che rese da Olin de Rosa vennero fatte, dice l'ex carabiniere, delle pressioni si sapeva presso la compagnia che ormai l'unica pista da seguire era quella che tutte le altre dovevano essere abbandonate e anche ha fatto chiarezza e indicato a suo dire il motivo per il quale tutta una serie di intercettazioni poi non si trova, non è reperibile bene, adesso andiamo a rivedere un momento questa